Il tuo progetto è l'automato e il tuo cuore per una nuova analisi del nuovo combo Stiamo parlando della Atom V8 a Blackwood che è un circuito convertito da Live4Speed E mi sono divertito molto, per certe è stato un po' frustrante Ma andiamo subito allora a vedere l'analisi del giro Dopo vi lascerò anche il setup perché qua faceva davvero la differenza Come sempre ragazzi è essenziale uscire forte dall'ultima curva In particolare qua ve la spiego prima dai Bisogna arrivare al punto di staccata qui al muretto Più o meno al muretto che vedete dell'ingresso box Lì si fa una staccatina leggera e si scala una marcia di terza Occhio perché quest'auto quando si scala le marce Farà un mini bloccaggio dietro penso Comunque dà una scalciata e parte in sovrasterso Quindi molta attenzione e dosare tanto il gas poi qua Ok ma partiamo La rivedremo poi meglio a fine giro l'ultima curva Partiamo Terza Dosare bene il gas Qua per correre meno strada possibile Non stare proprio attaccatissimo al cordolo Ma meno strada possibile Qua si frena Prima dei 100 metri è più o meno 120 metri Ok Una staccata da fare dritta Una staccata da fare a volante dritto ragazzi Senza cercare di andare dentro prima Allora sì vedrete che in questo video qua io faccio un mini bloccaggio Ma in realtà mi aiuta anche a restare un po' dentro alla traiettoria Comunque frenata dritta Da sesta andiamo a terza E poi facciamo la curva Attenzione all'uscita di questa curva Perché non dovremmo andare a sfruttare tutto l'esterno Tutta la pista Ma ci dovremo mantenere a centro della carreggiata Perché poi ci sarà una chicane molto insidiosa Che adesso vediamo Quindi si scava fino in terza L'ho fatto un bloccaggio Vabbè Si sta a metà carreggiata E poi qui si fa uno short shifting di quarta Ok Vedete che io infatti sono già in quarta Quando entro in questa chicane Allora molto importante qua Non dare degli strattoni Sia sulla destra Che alla sinistra Non bisogna assolutamente dare strattoni Quindi short shifting di quarta Si va sopra il cordolo E poi si fanno delle micro correzioni Io probabilmente qua tenevo premuto Sia l'acceleratore che il freno Per inserirsi bene nella sinistra Ok Dobbiamo inserirsi bene nella sinistra Non dobbiamo perdere troppa velocità Perché poi ci sarà un'altra curva destra Che darà lungo Scusate Che darà su un lungo rettilineo E noi dobbiamo letteralmente Su questa curva destra Non questa Ma l'ultima Di questa chicane Ci dobbiamo letteralmente buttare Al di là del cordolo Ce lo dobbiamo fare in modo che Allora Arriviamo alla chicane Prima curva destra Delicati con lo sterzo Delicati con lo sterzo Quarta Poi Sacrifichiamo bene la sinistra E non entriamo però A velocità troppo bassa Poi ci prepariamo subito A riadrizzare Ad aprire Ci sarà una destra Ok Che da sul rettilineo Lì dobbiamo cercare di passare Oltre il cordolo Dopo lo vedrete Con lo sterzo più dritto possibile Senza mollare il gas L'auto magari Sgommerà un po' Però non vi preoccupate Perché Riesce Riesce ad andare dritta Senza Senza sbinnare Adesso vi faccio vedere Importantissima Questa Questa serie di curve Perché qua si fa il tempo davvero Allora Si entra di quarta Si sta quarta Si sta quarta E qua tutto dritto Sono stato tutto dritto lì Ho tenuto tutto giù All'uscita della curva Senza problemi Poi qua c'è un mega dritto Che si arriva a limitatore Proprio scuratissimi E qua si frena Dove c'è Questo Muro Quando il muro Diventa bianco Prima è grigio E poi diventa bianco Ci sono delle protezioni bianche Lì si fa la staccata E' quasi ai 100 metri E' quasi ai 100 metri Poi Altro errore Che qua vedevo dei ragazzi Che Qui Usavano terza Qui se facciamo questa curva di terza Non si riesce assolutamente a trazionare Perché ha troppa potenza questa macchina Quindi qua si scalano due marce Quindi da sesta a quarta Si posticipa un po' l'inserimento Si posticipa un po' l'inserimento Perché Dobbiamo accarezzare il cordo all'interno Ma non accelerarci sopra Cioè se non magari appoggiarci il gas Ok Quindi posticipiamo Posticipiamo il punto di corda E la facciamo di quarta questa Mi raccomando Anche se è bassa di giri Si fa di quarta Magari Dovrete prendere un po' di Confidenza Perché vi sembrerà di andare In miga larghi Di quarta E invece Paga Paga l'uscita Perché si riesce a trazionare bene Ma andiamo avanti Quarta Punto di corda Posticipato Ecco Blocco ancora un attimo Se vedete Qua se fate caso Io in questa curva E anche Nella penultima Faccio un'accelerazione Rattina A centro curva Che non è Non è giusto Farlo Ma io l'ho fatto Perché Perché mi sono reso conto Che stavo andando Troppo interno La curva E quindi Per non andare sopra Il cordolo Do un colpo di gas Così l'auto Va un po' Verso l'esterno E riesco A non prendere il cordolo L'ho fatto qua Lo farò anche la penultima Ma andiamo avanti Questa chicane Si frena Appena Dopo l'inizio del cordolo Saranno 10 metri E si tiene anche qui Quarta Qui Anche qua Vedevo che I ragazzi Scalavano di terza Purtroppo Non si riesce a trazionare Qua si tiene quarta E bisogna stare Attentissimi Perché questa È la curva Più rischiosa Di tutta la pista Bisogna stare Attentissimi Far curvare L'auto Con la frenata Praticamente Perché qua Si è un po' In discesa Quindi l'auto Tende a sovrasterzare Ok Bisogna sacrificare La prima parte Perché questa Sarà una destra Sinistra Bisogna sacrificare La prima parte Sembrare di essere Lenti Per poi riuscire A buttare giù E fare in pieno La sinistra Ok Quella di uscita Insomma In questa chicane qua Bisogna fare in pieno Quella sinistra Importantissimo Sacrificare Per fare in pieno La sinistra E uscire a bomba Poi si potrà anche Andare un po' Oltre la pista Adesso vi faccio vedere Ripartiamo Si accarezza Il cordolo Di qua e di là Qua si può andare Tutto oltre Questa si fa piena Qua si frena Anche in questo caso Appena dopo L'inizio del cordolo 10-15 metri Si scala È una marcia Si fa di quarta Anche questa curva Vedevo ragazzi Anche qui fa la di terza Ma si fa di quarta Per lo stesso motivo Di prima Perché così Si riesce a trazionare meglio Perché in terza Veramente non si riesce A trazionare Con questa macchina A meno che Magari Il servizio sarà sostenuta Ma qui non si riesce A trazionare Qua stessa cosa Di quella precedente Punto di corda Anche qui È leggermente Posticipato Ok E poi Ci prepariamo Per l'ultima curva Che abbiamo visto Anche inizio video Qui vedrete Che darò ancora Un colpo di gas Perché Stavo per andare Sul cordolo Ma come vi ho spiegato Prima Do un colpo di gas Per far andare Un po' all'esterno Una macchina Sono cose che Vengono in un frazione Di secondo Non puoi neanche Pensarci Di farlo La migliore Delle cose A far sempre È fare la staccata Al punto giusto E Accelerare Solo Dal punto di corda In poi Però Per correggere gli errori Si trovano Insomma Questi metodi Andiamo Verso L'ultima curva Qui quarta Si esce di quarta Tranquillamente Qua come vi ho detto prima Si stacca Sì Forse un 5 metri Forse un 5 metri Prima Del Del muretto Dei box Che vedete qua in parte Qui Importantissimo Se arriva di quarta Si aspetta a scalare Si aspetta a scalare Perché sennò L'auto scalcia E E vi parte Il sovrasterzo Si posticipa Il punto di corda Perché Non si vede Qua il punto di corda Come vedete C'è una discesa E poi una salita Qua Non si vede Il punto di corda Ma vi dico io Che si arriva di quarta Frenata Si aspetta 1-2 secondi Si scala di terza Poi Entriamo In curva Anche qua Assolutamente Assolutamente Qua non va preso Il cordo all'interno Ok Dobbiamo puntare Anche in questo caso A massimizzare L'uscita di curva Riuscire a spalancare E fare in pieno Anche l'ultima parte A destra Di questa curva Ora ve la faccio vedere Terza Occhio sovra Ho avuto sovra Giù tutto Giù tutto Giù tutto Si tira tutto E si fa Meno strada possibile Ho fatto un tempone Raga In qualifica 1.04.7 Mamma mia Non mi era mai uscito Un tempone così E come sempre ragazzi Abbiamo finito il video Vi lascio Il mio giro completo Intanto Stavo spinnando Vi lascio Il mio giro completo Senza il commento E poi Anche il setup Vi lascerò Una registrazione Delle schermate Così potete provare Anche voi A migliorare Il vostro tempo In questa Magnifica combo Atom V8 E Blackwood Ragazzi come sempre Like se il video Vi è piaciuto E vi è tornato utile E iscrivetevi al canale Per sostenere Questo mio impegno Grazie Per quelli che sono stati Fino qui E noi ci vediamo Al prossimo video E noi ci vediamo 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 E noi ci vediamo